oggi cameo italiano ci ha aperto le porte e ci ha fatto entrare in questo meraviglioso mondo magico fatto di lusso di sogni perché poi noi donne quando indossiamo un gioiello ci sentiamo subito delle principesse sono con debora che fa parte del team di cameo italiano buongiorno a tutti debora so che adesso ci presenterai un gioiello meraviglioso meraviglioso e molto versatile sì abbiamo un anello sempre in argento 925 con una placatura 18 carati di oro un micron quindi una placatura chiaramente molto resistente e a raffigurarlo è un questo volto di donna che è un volto meraviglioso che impersonifica la tradizione del cameo e con un design comunque molto moderno accattivante quindi c'è la tradizione del volto di donna di cameo ma con una galvanica intorno molto moderna e quindi c'è anche questo contrasto che da sicuramente che lo rende proprio un gioiello speciale ma contemporaneo ma questo è un po anche la caratteristica dei camei prodotti dalla famiglia di luca cioè quello di rendere il gioiello contemporaneo investendo poi nella ricerca investendo nella sperimentazione allora come lo indossiamo questo questo volto di donna così come l'hai messo tu noi lo possiamo indossare così o lo possiamo indossare all'interno su questo qua diciamo questo discorso è un po a piacimento solitamente si dice poi tra l'altro che chi lo indossa all'interno di un anello nel caso in cui si vede l'anello lo vuole più mirare ammirare quindi è una persona alla quale piace in qualche modo guardare lei stessa quello che indossa un po narcisista invece in questo caso così lo vuoi proprio far mostrare sei più aperta verso c'è anche una disponibilità direi insomma assolutamente c'è anche una forma di psicologia in questo no le persone più rivolte all'esterno lo metteranno esternamente le persone più introspettive lo metteranno verso di la lettura del cameo ragazzi che storia senti ma lo posso abbinare con qualche altra cosa si assolutamente questo anello che diciamo piuttosto importante si può abbinare con questi orecchini che invece danno danno luce sono più piccolini più discreti più discreti piccolini magari metto l'anello importante per una con una bella manicure assolutamente e invece mette un punto luce vicino al volto che chiaramente anche qui pare lo stesso discorso il volto verso l'esterno vale col con con i due volti vale una cosa ancora più particolare ovvero si dice si dice anticamente dall'antica tradizione che se una donna indossa i due volti verso l'interno del vol del proprio volto è occupata ok quindi a un marito un partner mentre se questa donna indossa questi orecchini con il volto rivolto verso l'esterno è una donna libera in cerca e se ne metto uno si uno no eh lì è un problema ci sto a pensare scusate l'ho detto alla domanda grazie Deborah grazie a tutti 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 grazie a tutti